Entrato nel vivo oggi il Porto Sole Saremo Olympic Triathlon Kermesse Sportiva che si concluderà domani e che al suo interno comprende il campionato italiano dei triathlon giovani e la Coppa delle Regioni. Migliaia le presenze nella Città dei Fiori per questa manifestazione sportiva giunta alla sua diciassettesima edizione e oltre mille gli atleti partecipanti provenienti da ogni parte d'Italia per quanto riguarda le gare giovanili e anche da Svizzera, Francia, Brasile, Croazia, Serbia, Inghilterra e Olanda per quanto riguarda la gara su distanza olimpica che tra l'altro assegnerà anche i titoli regionali. L'evento è iniziato ieri con l'inaugurazione del bilancio dello sport all'interno di Porto Sole. In nuoto si svolge nello specchio acqueo antistante i bagni Morgana mentre il percorso ciclistico si snoda per i primi 18 chilometri sulla pista ciclopedonale del parco costiera Riviera dei Fiori sino a San Lorenzo al mare. Poi in missione sull'Aurelia per ripercorrere gli ultimi 24 chilometri della Milano-Sanremo affrontando il Cipressa e il Poggio. Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al mare, Cipressa, Costa Rinera e San Lorenzo al mare, i comuni attraversati da questa spettacolare frazione di gare. Il percorso podistico si sviluppa invece all'interno di Porto Sole.